Nella giornata del dono il CSV di Taranto risponde presente, così come ha fatto nelle otto edizioni precedenti. Quindi anche se il giorno del dono ricorre nella data del 4 di ottobre, noi volevamo fare una cosa importante, tant'è insomma che abbiamo con noi il presidente dell'Istituto Nazionale della Donazione, il dottor Stefano Tabò. Quindi oggi insieme a altri due ospiti particolari festeggiamo questa ricorrenza particolare particolare per noi perché il dono insieme alla gratuità, insieme alla solidarietà sono i pilastri del volontariato. Quindi se noi vogliamo in qualche modo incidere positivamente sulla nostra comunità che deve essere sempre più sostenibile, beh c'è poco da fare. È il volontariato che dà la spinta necessaria. Parliamo di dire, parliamo di fare e non c'è dubbio che la solidarietà, i modi, i diversi modi con cui si testimonia la solidarietà e le forme di dono che in Italia sono ricchissime, rimbalzano da questi due concetti. Insomma la notorietà e l'attenzione verso il mondo del volontariato derive innanzitutto da un fare, un fare concreto, un esserci, un rispondere spesso in modo organizzato ai bisogni, le necessità, i richiami che il mondo circostante evidenzia. Ma inevitabilmente questo fare, che ripeto è concreto e diffuso attraversa tutte le generazioni, questo è un dato particolarmente importante, tutti i territori e tutte le regioni, il nostro paese deve essere orgoglioso di questa testimonianza permanente. Ecco questo fare, dicevo, rimanda a un riflettere, a un esprimersi, a un guardare, a uno sguardo che attraversa il presente ma soprattutto il futuro. Quindi parlare di solidarietà non significa, è di dono, non significa porre attenzione a qualcosa di marginale, di privatistico, che è importante solo nei rapporti tra le persone, ma di un supporto fondamentale per la qualità complessiva della nostra società, della nostra società italiana, non solo per gli aspetti sociali ma anche quelli istituzionali e anche quelli economici. Più alto è il tasso di fiducia verso se stessi, le relazioni con gli altri, le istituzioni medesime. Ecco, più concreta, più fattiva, più coerente è la cittadinanza che le persone esprimono in stretta connessione con i valori costituzionali. Per fare comunità bisogna investire nelle persone e soprattutto collegare tutti quei mondi nel territorio che rappresentano non solamente le istituzioni pubbliche o il terzo settore ma anche il mondo for profit e gli enti non formali. Abbiamo bisogno di fare delle alleanze di scopo che non solamente hanno un interesse generale sul quale mettersi insieme, quindi superare la logica dei bandi, delle iniziative, lavorare in modo strategico, ma dobbiamo capire quali benefici e quale impatto queste comunità generano e solo in questo modo poi creare davvero dei percorsi che sono di lunga durata. Abbiamo bisogno di giovani ovviamente che è il tema di questa giornata, ma i giovani devono stare al centro e devono parlare, non bisogna rischiare di parlare dei giovani senza parlare con i giovani nello sviluppo comunitario. Le prospettive ci sono, dobbiamo sperimentare e incominciare a lavorare nei territori insieme. Sì, il dono costruisce comunità, quindi è bello parlarne, soprattutto è bello parlarne con tanti ragazzi presenti perché saranno proprio loro a costruire la comunità e renderla sostenibile, soprattutto in una città come la nostra dove la sostenibilità ha bisogno di essere proclamata, sostenuta appunto e portata avanti con un'educazione che sia realmente incisiva e possa portarci ad un futuro migliore.